Buongiorno a tutti, buongiorno, ben trovati a questo nuovo webinar di AIRC nelle scuole. Vediamo se ci siamo collegati tutti, vedo che sta entrando ancora qualche partecipante. Diamo tempo ancora ai prossimi partecipanti di entrare. Intanto comincio ad anticiparvi che in questo webinar useremo anche degli strumenti per interagire tra noi. Useremo la chat per scrivere, così se avete anche delle domande potete metterle in chat e poi le leggeremo durante il corso del webinar o verranno raccolte alla fine per mandare delle risposte invece più specifiche. Useremo anche i sondaggi, sempre sondaggi online. Quindi state vicino al computer e preparatevi a rispondere il più velocemente possibile alle domande che vi faremo. Grazie. Ok, direi che possiamo iniziare, se poi qualcuno si aggiungerà dopo possiamo accoglierlo man mano. Questo webinar, come sapete, fa parte delle iniziative di scuola.airc.it, il servizio di AIRC per le scuole che fornisce un sacco di materiale, un sacco di spunti, un sacco di aiuto per la didattica e per anche la prevenzione e la salute per noi che lavoriamo nelle scuole. In particolare vi ricordo due eventi, uno è Cancro io ti boccio che è un'iniziativa di AIRC per le scuole nelle quali le scuole possono collaborare con AIRC distribuendo le arance della salute. Quindi c'è ancora pochissimo tempo, se volete entro il 5 di dicembre potete iscrivervi per partecipare alla distribuzione di arance per la salute per finanziare, per supportare la ricerca scientifica contro il cancro. Inoltre vi ricordo anche, oltre ai webinar come quello che stiamo seguendo, che AIRC mette a disposizione delle scuole una newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle attività che propone per le scuole. Quindi se siete interessati iscrivetevi alla newsletter così riceverete tutti gli eventi e non ve li perderete. Ma iniziamo subito con il nostro argomento di oggi, mi presento, io sono Roberto Cighetti, sono professore di scienze naturali e di anatomia alle scuole superiori e divulgatore scientifico soprattutto sui social. Oggi vi parlerò dello scheletro, delle ossa. Andiamo a vedere ossa, scheletro e vitamine per conoscerli meglio. Come prima cosa iniziamo a usare il primo strumento che abbiamo a disposizione per interagire tra noi, il sondaggio. Quindi adesso apriamo il sondaggio numero 1 e mi dite da che tipo di scuola siete connessi. Il sondaggio è aperto, votate. Vi chiedo di stare vicino al computer in modo da poter votare e poter anche partecipare in chat che sarà invece il task subito successivo. Vedo che sta aumentando le risposte di quelli delle scuole medie, ma c'è anche quasi la metà già dalle scuole superiori. Ancora pochi secondi per votare. Bravissimi, vedo che state votando in tanti. Perfetto. Allora, abbiamo votato quasi tutti e vedo che siamo divisi abbastanza equamente tra scuole medie e scuole superiori. Quindi mandiamo i risultati del sondaggio. Come potete vedere siamo un 60-40%. E ora invece proviamo la chat. Da dove siete connessi? Iscrivetemi. Da quale regione d'Italia, da quale parte d'Italia siete connessi? Così almeno abbiamo provato i due strumenti interattivi e avete preso dimestichezza. Vediamo un po' se arriva in chat le risposte. Avete trovata la chat così, quando l'avete trovata vedete che lì è dove potete anche poi scrivere benissimo. Quindi arrivano le prime risposte, ad esempio da Brescia, eccetera, da Empoli. Che bello sapere che anche Vercelli, anche se siete lontani, possiamo vederci a distanza. Ecco, questo strumento che state usando adesso è dove potete poi digitare le domande se avremo tempo e occasione durante il webinar per rispondere subito, se sono domande brevi. Se invece sono domande più lunghe, risponderò magari via mail, separatamente, ai singoli docenti che le hanno poste. Altri della Lombardia, vedo, bene, Pisa, Molise, addirittura, Verona, Est, Roma. Wow, bellissimo. Allora, la chat l'avete imparata ad usare. Arezzo, macerata, wow, ma quanti siete? Andiamo a vedere velocemente chi sono io. Mi presento, dicevo, io mi chiamo Roberto Cighetti, sono un biotecnologo, quindi ho studiato e lavorato come biotecnologo in università, ho fatto anche un dottorato di ricerca sulla chimica farmaceutica, ma poi sono passato a lavorare nel mondo della scuola. Questa è la scuola dove insegno in provincia di Lodi, in Lombardia. Da qualche anno mi dedico anche allo studio di scheletri, di resti umani archeologici e a fare divulgazione sui social come su Instagram e su YouTube. Oggi vi parlerò di questa mia passione, la passione per lo scheletro, per le ossa. Avete già studiato l'apparato scheletrico nel vostro percorso di studi, alle medie perché le medie o alle superiori perché le superiori? Andiamo con il secondo sondaggio, così posso farmi un'idea di quanti di voi hanno già avvicinato lo studio dell'apparato scheletrico e in questo modo anche so quanto scendere nel dettaglio, quanto posso dire o non dire. C'è una grossa fetta che l'hanno già studiato, molto bene. Ancora qualche secondo per votare. Lo stiamo trattando proprio in questo periodo, vedete se c'è qualcuno che sta iniziando proprio ad affacciarsi a questo apparato. Bene, allora, buonissimo, siamo divisi quasi metà e metà con un 40% che non l'ha ancora studiato, quindi cercherò di essere da un lato interessante, magari raccontando cose che di solito a scuola non si vedono, ma dall'altro di essere semplice e comprensibile. Come prima cosa vorrei andare a vedere insieme a voi come sono fatte le ossa, proprio la loro struttura. Queste tre foto che vedete le ho scattate io a casa mia, sono una sezione di un femore umano che era rotto, che era fratturato, e come vedete semplicemente col cellulare facendo degli ingrandimenti o utilizzando la lente da dieci ingrandimenti del microscopio, già si vede come la corticale dell'osso, cioè tutta la parte esterna compatta dell'osso, è fatta in realtà tutta a buchini. Se la fotografiamo appunto con un ingrandimento di dieci volte, si notano già tutti questi buchini. Quando prepariamo un vetrino istologico, cioè tagliamo una fettina sottilissima di questo osso, per renderla trasparente e poterlo vedere al microscopio ottico, quello che vediamo è esattamente questa cosa qua che vedete sullo schermo, cioè tutti questi buchini sono in realtà al centro di una struttura fatta a lamelle, che mi ricorda molto i tronchi degli alberi, quindi una struttura concentrica con un buco al centro. Ecco, questa struttura, che vediamo qua a forma più o meno di ellisse o di cerchio nell'osso umano, è l'unità di base del nostro osso. Si chiama osteone. Nel canale centrale ci passano i vasi sanguigni e i nervi che vanno a nutrire l'osso, perché l'osso, anche se a volte non ci sembra, non siamo abituati a vederlo così, ma l'osso è un tessuto vivo, è un tessuto connettivo, con una matrice, cioè una sostanza extracellulare, fortemente mineralizzata, dove il minerale principale è il calcio fosfato, l'idrossiapatite. Ma questo minerale, questi sali di calcio, dove stanno? Stanno sparpagliati a rendere solida una matrice che è fatta di proteine, e la proteina più abbondante nell'osso è il collagene. Quindi qua vediamo una sezione di osso, vediamo tutti i vasi sanguigni che lo nutrono, tutto quello che è colorato in giallo è una matrice di proteine, un gel di proteine, principalmente collagene, che viene reso duro, mineralizzato, dalla presenza dei minerali di calcio, il calcio fosfato è il principale. E tutti quei pallini fucsia che vediamo qua nella figura sono le cellule, sono le cellule che abitano all'interno dell'osso e che si occupano di mantenerlo vivo, in salute e di rigenerarlo quando c'è qualcosa che non va. Per vedere queste due componenti dell'osso, cioè il fatto che è composto da proteine, il fatto che è composto da minerali, ci sono alcuni esperimenti molto semplici che potete provare anche in laboratorio. Il primo prevede di andare a vedere la componente proteica, quella di collagene, quella che rende l'osso elastico, come? Lasciandolo a bagno, ad esempio per tutta la notte, per un paio di giorni, in aceto. L'aceto toglie i minerali di calcio e come potete vedere, l'osso demineralizzato è fatto solo da proteine gommose e flessibili, come appunto il collagene. Per vedere invece la componente minerale dobbiamo distruggere tutta la componente proteica e come distruggiamo le proteine? Bruciandole. Come potete vedere qua, possiamo scaldare sopra una fiamma molto intensa un osso per fargli prendere fuoco sostanzialmente. Le proteine bruciano e bruciando lasciano dietro di sé solo i minerali che invece non bruciano. Quindi il fosfato di calcio rimane lì, il collagene diventa anidride carbonica, brucia e se ne va. Intanto vi consiglio, se fate questo esperimento, di farlo all'aperto o sotto una cappa aspirante, perché la puzza di osso bruciato è veramente disgustosa. Il risultato è questo, vediamo un osso parzialmente carbonizzato che rispetto a un osso normale che ha una certa resistenza, una certa rigidità, l'osso quando è stato bruciato o cremato, come vedete, si sbriciola molto in fretta. La parte minerale dà resistenza all'osso, gli dà la durezza, ma non ci dà la resistenza agli urti. Quindi se avessimo le ossa fatte solo di minerali, si sbriciolerebbero come abbiamo visto in questo video. Se avessimo le ossa fatte solo di proteine, invece sarebbero molli e non potremmo camminarci sopra. Quindi l'osso è un bellissimo connubio, una bellissima unione tra la componente minerale e la componente proteica. Ma ora un altro sondaggio, sondaggio numero 3, sulle funzioni che ha lo scheletro. A che cosa serve il nostro scheletro? Potete scegliere anche più di una risposta. Votate, votate, votate! Serve a dare sostegno meccanico e a permettere il movimento? Serve a proteggere gli organi delicati? Oppure serve a produrre nuove cellule? Oppure serve a immagazzinare sostanze? Ottimo, vedo che state votando in tanti. Immagino i sondaggi fatti nella classe con i ragazzi che alzano la mano. Mi spiace di non essere lì a vedervi di persona, però vedo i vostri risultati. Ok, la percentuale di votanti va su, molto bene. E direi stop al televoto. Andiamo con la pubblicazione dei risultati. Allora, come potete vedere, avete risposto un po' a tutte e quattro le risposte. E va bene così, e va bene così. Ovviamente il modo in cui è distribuita la percentuale delle risposte mi indica intanto quali sono le funzioni principali dello scheletro. Ok? Quindi 100% siamo d'accordo nel dare sostegno meccanico e permettere il movimento. Quella è la funzione che vediamo di più nello scheletro. Una buona parte di voi ha votato anche per proteggere gli organi delicati, giustamente, e solo metà dei votanti ha detto che lo scheletro produce anche nuove cellule e immagazzina sostanze. Andiamo a vedere perché sono tutte e quattro giuste. Vi ho fatto un trabocchetto, erano giuste tutte e quattro. Però mi piace come si sono distribuiti i risultati. Queste sono alcune delle funzioni principali dello scheletro. Sostegno meccanico e movimento le abbiamo prese tutte. Ok? Sostegno meccanico perché abbiamo visto la rigidità, ci permette di tenerci in piedi, ma anche movimento perché fa da punto di attacco per i muscoli che agiscono sulle ossa come se le ossa fossero delle leve e quindi esercitano una forza sull'osso che causa poi il movimento di alcune parti del nostro corpo. La protezione degli organi interni, se pensiamo alla scatola cranica, il cranio che protegge ad esempio il cervello al suo interno, oppure alla gabbia toracica che protegge il cuore, i polmoni che sono estremamente preziosi e delicati. Ma lo scheletro produce anche nuove cellule del sangue. In un processo che si chiama emopoiesi va a produrre nuovo sangue. Le cellule del sangue, ad esempio i globuli rossi come vediamo qua nella figura, ma anche altre cellule, nascono all'interno del midollo osseo rosso dentro nelle ossa. In particolare nella parte spugnosa delle ossa, quindi non nella cavità centrale, quella che abbiamo visto prima nella foto, ma nella parte spugnosa delle ossa che si trova verso le estremità oppure in ossa come il cranio oppure il bacino. Lì ci sono tutti i centri di produzione del sangue e lì nascono le nuove cellule, perché il nostro corpo ciclicamente le sostituisce, toglie quelle vecchie e quindi ne servono sempre di nuove. Ma ci sono anche due funzioni legate all'immagazzinamento di sostanze che compie il nostro scheletro, perché il nostro scheletro, come potete vedere dal punto 4, quello in verde, immagazzina minerali. In particolare i depositi di fosfato e i depositi di calcio sono all'interno delle ossa, quindi sono un deposito di chili letteralmente di minerali e immagazzina all'interno del midollo osseo giallo, invece, dentro nella parte centrale, dentro nel tubo delle ossa lunghe, immagazzina grasso, immagazzina energia in forma di lipidi. Quindi il nostro scheletro è anche un grandissimo e pesantissimo magazzino. Quante funzioni che fa il nostro scheletro? Un modo per studiare il nostro scheletro è quello di avvalerci anche di realtà virtuale, di simulazioni, come questa che vi vado a mostrare in questo momento. Ok, l'apro di qua, che ce l'avevo già aperta. È uno strumento, si chiama Zigot Body, è una bella app online che, se volete, potete usare gratuitamente, come sto facendo io, che vi permette di selezionare un individuo, potete scegliere maschio o femmina, e di andare a spogliarlo gradualmente di tutti gli organi, dai più esterni verso i più profondi. Quindi un consiglio magari per i miei colleghi che insegnano l'anatomia nelle scuole, sia le scuole medie sia le scuole superiori, è un bel modo per avere sotto mano un corpo umano dove possiamo andare a mettere in risalto i singoli organi fino a quelli più profondi. Se andiamo qua a sinistra sui controlli, io posso disattivare tutti gli organi che non mi interessano in questo momento e andare invece a vedere solo il nostro scheletro. Eccolo qua, il nostro scheletro in tutto il suo splendore è composto da più di 200 ossa, diciamo il numero standard che di solito si riferisce è di 206, ma in realtà è un numero che varia abbastanza da individuo a individuo e anche, soprattutto, con il passare del tempo, con il passare dell'età, come vedremo tra poco. Vediamo bene la colonna vertebrale, formata da 24 vertebre normalmente, che va a comporre il nostro scheletro assile. Il nostro scheletro assile va dal capo, dalla testa, giù lungo tutta la colonna vertebrale, fino al sacro. Questo è lo scheletro assile. Che cosa si attacca allo scheletro assile? Si attaccano gli arti superiori, quelli che noi siamo abituati a chiamare braccia, ma in anatomia si chiamano arti superiori, che sono il braccio, l'avambraccio, desto e sinistro, e gli arti inferiori, composti da coscia e gamba. La coscia è la prima parte, la gamba è la seconda parte, con il piede è la parte finale. Quindi arti superiori, arti inferiori, e come si attaccano allo scheletro assile? Si attaccano attraverso dei cinti o cingoli. Uno è il cinto pelvico, quello che noi tendenzialmente chiamiamo bacino, e che è composto da queste ossa, abbiamo detto l'osso sacro che completa lo scheletro assile, e poi le due ossa coxali o ossa innominate, che sono queste qua grandi, nascono dalla fusione di tre ossa più piccole che durante l'adolescenza si fondano tra loro, e sono l'ileo, il pube e l'ischio, che è quello su cui ci sediamo. Quindi se siete seduti, potete mettere la mano sotto di voi, il punto in cui scaricate tutta la vostra forza, su cui scaricate tutto il vostro peso, lo potete sentire che punge, che schiaccia sulla vostra mano, è proprio l'osso dell'ischio che sta qua dietro. L'altro cingolo, l'altro cinto, è il cinto scapolare, composto dalle due clavicole, le vediamo qua a destra e a sinistra, piatte e allungate, e dietro invece dalle due scapole, che sono queste. Quindi scapola, questa è piatta, e la clavicola invece allungata, a forma di S. La clavicola la potete anche vedere e toccare direttamente con le vostre mani, se toccate ai lati alla base del vostro collo. Quindi ci sono alcune parti dell'anatomia che possiamo toccare con mano. Ma torniamo alla nostra presentazione. Ecco qua, quindi vi lascio questo, anche come consiglio per i docenti, per quando spiegherete poi i prossimi apparati, potete usare Zigot Body. Ma il nostro scheletro, oltre a essere, diciamo, così ricco di funzioni, è anche ricco di storie da raccontare. Magari alcuni di voi hanno già visto, o gli è capitato, insomma, di vedere delle serie TV dove studiano le ossa per vedere che storie ci raccontano. Bones è una delle mie serie preferite e sicuramente quella che ha affrontato più da vicino l'argomento dello scheletro, delle ossa e di quello che racconta di individui ormai morti. E quindi vai col sondaggio numero 4 per vedere che cosa ci può raccontare uno scheletro dell'individuo a cui appartenevano quelle ossa. Andate a votare, vediamo che cosa ci può raccontare lo scheletro, che sarà poi anche una grossa parte, una grossa fetta di questo seminario. Ci può raccontare il sesso biologico dell'individuo, ci può raccontare l'età alla morte dell'individuo, o ci può dire le malattie di cui soffriva questo individuo, o addirittura che lavoro svolgeva l'individuo. Molto bene, vedo che alcuni hanno già votato. Ricordate anche qua, è una risposta, più risposte sono accettate, quindi potete rispondere anche più di una cosa. Ovviamente in qualunque momento del seminario, come già sapete, potete scrivere nella chat, avete visto prima dove si trova, se avete domande, se avete curiosità. Ancora qualche secondo, perfetto. Allora, vediamo i risultati del sondaggio. La maggior parte di voi ha votato che lo scheletro, le ossa, lo studio delle ossa, ci possono dire molte cose sul sesso biologico dell'individuo, sull'età alla morte e sulle malattie anche di cui soffriva l'individuo. Una percentuale un po' più piccola ha detto che ci può rivelare anche che lavoro svolgeva l'individuo. Allora, direi molto bene come risultati e anche le percentuali riflettono effettivamente quella che è la potenzialità delle nostre ossa, perché le ossa sicuramente ci possono dire il sesso biologico dell'individuo, ma giusto anche dire che ci possono stimare qual era l'età alla morte della persona. Non in modo estremamente preciso, ci può dare dei range, ci può dare degli intervalli all'interno dei quali ci sarà molto proprio una certa probabilità l'età della persona alla morte. Quindi se vediamo magari in un film o in una serie tv che dicono aveva 38 anni e mezzo, ecco questa cosa non è fattibile con lo studio delle ossa, però posso dare delle fasce di età più o meno larghe che comprendono con buona probabilità l'età dell'individuo alla morte. Ci possono raccontare anche la statura, come vedete qua, ci possono raccontare che lavoro svolgeva l'individuo, non in modo così preciso, però ci possono dire quali sono magari le attività o i movimenti che più probabilmente quell'individuo faceva. Qua vediamo un omino che solleva un carico pesante, ecco immaginate di farlo per tutti i giorni, le ossa possono portare i segni della nostra attività, del nostro lavoro. Ok? Quindi a seconda del tipo di lavoro, del tipo di attività, del tipo di movimenti che facciamo con il nostro scheletro, questi possono lasciare un segno nelle ossa e quindi possono raccontare questa storia di noi a chi analizzerà le nostre ossa. Però indicare in modo così specifico il tipo di lavoro è raro, può succedere, può dare degli indizi, però è un po' più raro che lo vada a vedere. Mentre ci può dare degli indizi su alcune malattie di cui soffriva l'individuo, purtroppo non tutte, però già fanno un bel deposito, sono un bel deposito le ossa di informazioni riguardo alle malattie, specialmente malattie dell'antichità, in una branca di studi che si chiama paleopatologia, appunto lo studio delle malattie antiche, e entro certi limiti ci può raccontare anche di traumi a cui sono andati incontro quelle ossa, traumi e anche episodi di violenza interpersonale se lasciano appunto un segno nelle ossa. Ho preparato una breve presentazione, giusto per darvi un'idea di come funziona questa cosa qua, con due o tre aspetti di quelli che ho menzionato. Iniziamo dal sesso biologico, il cranio di una persona che quando siamo in vita siamo abituati a riconoscere e a distinguere abbastanza facilmente tra un maschio e una femmina biologicamente parlando, quando non abbiamo i tessuti molli, quando non abbiamo la ciccia, diciamo così, sulle ossa, può diventare un po' più difficile identificare se un cranio è maschile o femminile, ma ci sono comunque delle caratteristiche che sono più comunemente incontrate nei maschi o più comunemente incontrate nelle femmine. Quindi con questi indizi possiamo andare a distinguere un cranio maschile, quello che vediamo qua nella parte superiore, che ha generalmente ossa più robuste, segni di attacco muscolare più marcati, rispetto a un cranio femminile che invece ha generalmente ossa più esili e con minori attacchi muscolari. Perché? Perché l'attacco dei muscoli e la forza anche dei muscoli è spesso controllata dagli ormoni sessuali maschili. Quindi in un maschio, in una persona esposta quindi a livelli di ormoni sessuali maschili come il testosterone più alti, il corpo cresce di più, i muscoli crescono di più e questo lascia i segni sulle ossa. Uno degli esempi che vi ho messo a livello del cranio, lo vedete qua a destra, è la forma del mento. La forma del mento può essere utile per distinguere se un cranio è maschile o femminile. Ma nel mondo dell'antropologia, cioè di chi si occupa di resti umani, dell'antropologia fisica, cioè di chi si occupa di resti umani per identificare gli scheletri o per raccontare la storia che questi scheletri raccontano, è il bacino quello che racconta meglio il sesso biologico dell'individuo, perché c'è una grossa differenza tra il bacino, la pelvi maschile e la pelvi femminile. Perché? Chiaramente perché un corpo femminile è il più possibile pronto, preparato per una eventuale gravidanza, cioè per ospitare all'interno della cavità pelvica, all'interno del bacino, un nuovo individuo che sta crescendo e che poi da lì dovrà nascere. Quindi il bacino femminile è tendenzialmente più largo, più ampio, qua lo vediamo rappresentato a destra e quindi ci sono anche qua dei piccoli indizi nel bacino che però, nelle varie ossa che lo compongono, che ci dicono se quel bacino è maschile o femminile. Ad esempio qua possiamo provare a vedere, abbiamo un bacino di un individuo A, un bacino di un individuo B, qual è secondo voi il bacino maschile tra questi due, pensateci un attimo, guardate la dimensione della cavità dello scavo pelvico dove c'è scritta la letterina là in alto, dove c'è scritto A e dove c'è scritto B, ok? E anche l'apertura di quello che si chiama angolo sottopubico, lì sotto l'osso del pube, appunto, sempre dove c'è la letterina A e B, l'apertura che ci dà un bacino più largo in un caso, più stretto in un altro. Quindi chiaramente il bacino maschile è il bacino B, la pelvi indicata dalla lettera B, ok? Perché è più stretta, ha meno spazio al suo interno. Altri elementi anche molto piccoli all'interno delle ossa della pelvi, come vi dicevo, ci permettono di distinguere tra maschi e femmine, ok? Ad esempio in questa regione anteriore, proprio dove c'è l'osso pubblico, possiamo guardare la presenza o l'assenza di questo segno. È come una cresta, si chiama arco ventrale, è una cresta che si trova solo o molto più tipicamente in un bacino femminile, in un osso pubblico femminile, mentre come vedete a destra nel maschio è quasi assente. È solo una traccia, è solo una cristolina, ma già la sua presenza ci dice al 90% o più che quell'individuo è un individuo femminile. Ora, se io metto in pausa un attimino la presentazione e voi adesso dovreste vedere me, giusto? Vi faccio vedere un campione e proviamo a vedere che cosa ne avete capito, ok? Vi faccio vedere questo pezzo, questo pezzo che vedete qua è un osso pubblico umano, è un frammento di uno scheletro più grande, è un osso pubblico. Abbiamo o non abbiamo quella crestolina che abbiamo detto è più tipicamente femminile, qua davanti, e quindi possiamo stimare il sesso biologico di quest'individuo anche solo da questo pezzettino? La risposta è sì. Come potete vedere non c'è la cresta, non c'è questa parte qua che avevamo visto nella figura dell'arco ventrale, l'osso qua è praticamente quasi tutto piatto, quindi questo osso è maschile. Ovvio che se avessimo lo scheletro intero potremmo dire molte più cose e potremmo anche dare un'idea, una stima del sesso biologico dell'individuo più precisa, però vedete come anche da un singolo pezzettino chi conosce le ossa può tirare fuori delle informazioni interessanti. Passiamo al prossimo argomento, l'età alla morte. Che cosa ci racconta lo scheletro sull'età alla morte? Abbiamo detto prima che lo scheletro è vivo, lo scheletro cresce insieme a noi e cambia nel tempo, ok? Qua possiamo vedere ad esempio uno scheletro di un bambino e magari potete notare come le ossa sono tutte, o molte di loro, sono separate in più parti. Guardate per esempio le ossa del cranio a destra che non sono fuse a formare un unico cranio bello completo come quello che ho in mano adesso, dove tutte le ossa sono attaccate tra loro e vanno a formare l'intero cranio, ok? Nel bambino, ecco qua che vi presento il mio ospite per oggi, nel bambino tutte le ossa che compongono il cranio sono ancora separate tra loro. Dicono che non si vede... Cosa non si vede? Non si vede la presentazione o non si vede... La presentazione sì, si vede anche la mia immagine perché sto... Ditemi eh che sto cercando di capire se si vede bene tutto... Ah, non si vedeva bene il frammento di osso, ok? Adesso cercheremo di presentarli meglio, ok? Dicevo, nel bambino le ossa che compongono il cranio sono tutte separate in pezzetti più piccoli che fondono poi dando un cranio completo man mano che passa il tempo, man mano che l'età avanza. Adesso torno sulla presentazione. Ok, adesso dovrebbe vedersi. Alcune delle ossa che vengono utilizzate per stimare l'età alla morte dell'individuo sono ad esempio i denti, perché l'eruzione, cioè il dente che viene fuori, dei denti decidui, i denti da latte, e dei denti permanenti è generalmente molto precisa nel tempo e quindi io posso, vedendo quali denti sono già spuntati, quali si stanno accorciando perché andranno a cadere tra poco, quali stanno crescendo da sotto, come potete vedere qua a sinistra nell'immagine che mostra una mandibola completamente aperta, quali stanno crescendo da lì sotto, io mi posso fare un'idea di qual era l'età dell'individuo e più l'individuo è piccolo, quindi nei bambini più piccoli, il range di età possibili è molto molto stretto, vuol dire che se io ho in mano una mandibolina o una macella molto molto piccole, di un bambino molto piccolo, io posso dire con un grado di certezza di pochi mesi qual era l'età di quel bambino alla morte. Più cresciamo, più questi range si allargano e diventano anche di un anno, quindi posso dire aveva tra i 15 e i 16 anni, posso dire aveva tra i 17 e i 18 anni, man mano che cresco, man mano che sviluppo una dentizione permanente, cioè perdo tutti i denti da latte, i denti decidui, mi rimangono invece i denti permanenti, però quando raggiungo l'età adulta ovviamente questa cosa non la posso più fare, non posso più usare l'eruzione dentaria per stimare l'età alla morte dell'individuo. Nelle altre due immagini che vi ho messo vedete invece quello che vi dicevo prima, cioè che le ossa dei bambini sono suddivise generalmente in più parti, ci sono dei centri di ossificazione, cioè dei punti dove inizia a formarsi l'osso, dove inizia a depositare minerale che si formano in seguito l'uno all'altro, quindi magari abbiamo un primo centro, abbiamo un primo nucleo dove l'osso inizia a formarsi e diventa solido, diventa mineralizzato e poi con il tempo nella cartilagine che lo circonda iniziano dei centri secondari di ossificazione, quindi le ossa crescono a step, crescono a intervalli e non crescono a partire da un'unica briciolina che diventa sempre più grande, ma spesso ci sono tanti inizi e poi questi si fondono tra di loro per formare qua nella foto centrale le vertebre o nella foto laterale fatta su un individuo vivente le ossa che compongono la caviglia. Qua potete vedere la tibia, la fibula e il talo sotto la tibia e vedete quelle linee che spezzano diciamo le due ossa lunghe, quelle lì non sono fratture ma sono ossa di individui non ancora adulti. Sempre per l'età alla morte ma stavolta negli individui adulti che cosa facciamo? Non possiamo più usare la fusione delle ossa, non possiamo più usare l'eruzione dei denti, possiamo usare il grado di degenerazione delle ossa perché le ossa quando raggiungono l'età adulta raggiungono la forma matura completa purtroppo iniziano a degenerare e quindi alcune di queste articolazioni cambiano forma e ci possono dare degli indizi su quella che era l'età alla morte dell'individuo. Qua a sinistra vediamo sempre una parte del bacino, sempre dell'osso pubico, quello che abbiamo visto anche prima, qua è dove le ossa pubiche si guardano tra di loro, si chiama sinfisi pubblica e vedete come cambia nel corso del tempo. In un individuo giovane abbiamo una superficie molto ondulata, molto liscia, molto carina anche da vedere, ricorda quasi il velluto visto da vicino sull'osso vero. Un individuo di mezza età invece presenta una faccia quasi completamente piatta e con un bordo ben definito. Nell'individuo anziano queste due ossa che si guardano tra di loro nel nostro bacino si sono modificate, diciamo un po' consumate e hanno una faccia non solo molto più piatta ma anche tutta bucherellata che mi racconta che quell'osso lì sta iniziando a sgretolarsi, sta iniziando a degenerare. Quindi dall'aspetto ad esempio di questa parte dell'osso pubico posso capire poi qual era l'età, un range, un intervallo di età possibili per quell'individuo nel momento in cui è morto. Qua a destra invece vediamo degenerazioni legate al bordo delle vertebre. Queste sono delle vertebre direi tutte lombari e vediamo una vertebra lombare molto giovane dove c'è la letterina A in alto con dei bordi come vedete bellissimi, molto ben definiti. Poi via via i bordi iniziano a rovinarsi, a slabbrarsi un po' a creare delle protrusioni, delle estroflessioni, delle parti che sporgono verso l'esterno a forma di dita, come indicato nella lettera D, che possono addirittura arrivare a fondersi tra di loro unendo le due vertebre una con l'altra, come si vede nella figura E. Ovviamente possiamo anche immaginare il mal di schiena che avrà avuto quel povero individuo, le cui vertebre si sono fuse tra di loro con la superiore e con quella inferiore e quindi davano molta meno mobilità alla schiena di quell'individuo e quindi molti più problemi a fare le sue azioni quotidiane. Ecco, la degenerazione di alcune articolazioni ci racconta che l'individuo molto probabilmente era avanti con gli anni, ma attenzione perché qua c'è un fattore confondente, cioè il lavoro che la persona faceva. Se la persona faceva un lavoro molto pesante che andava a rovinare molte delle sue articolazioni, usava tantissimo quell'articolazione, quell'articolazione ci può stare che sia più rovinata rispetto alle altre. Quindi persona che solleva carichi pesanti, magari un bodybuilder potrebbe, o un muratore potrebbe avere questo tipo di vertebre qua, ma sto pensando anche a uno sportivo, tipo un tennista che magari usa tantissimo il gomito e quindi l'articolazione del suo gomito si logorerà, si rovinerà molto più velocemente del mio gomito che non faccio tennis. Ok? Vediamo anche qua qualche esempio. Metto in pausa la presentazione. Ho qualche esempio proprio legato all'età dell'individuo. Ok? Ditemi se adesso riuscite a... Ah, così non vedete niente, mi dicono. Allora, rimetto la presentazione. Vediamo come posso fare. Facciamo così. se io mi metto qua. In teoria voi dovreste vedermi in grande. Facciamo un barbatrucco. Ok? Allora, adesso che mi vedete in grande vi faccio vedere due esempi riguardo alla crescita dell'osso. Mi dicono no? Va bene, speriamo che riuscite a vedere qualcosa. Allora, ho in mano questo ossicino qua, come vedete, grande meno di uno ossicino di pollo. Questo qua è un femore di un bambino prossimo alla nascita, quindi poteva essere appena nato o morto subito prima della nascita. Questo è un femore di un individuo perinatale, si dice, vicino alla nascita. E guardate come cresce questo osso durante il tempo. Questo che ho in mano, tra l'altro, non è neanche un femore di un individuo adulto, è un femore di un ragazzino ancora piuttosto giovane. Ok? Quindi pensate a quanta crescita devono fare le nostre ossa per poter andare da queste dimensioni, quelle di un ossicino di pollo, fino alla dimensione di un femore intero, che è l'osso della nostra coscia. Ok? Se avete davanti a voi le vostre cosce potete avere un'idea di quanto è grande il vostro femore. Eppure quando siete nati era grande così, era grande 6 centimetri. Ok? Quindi cresce davvero tantissimo. Altro esempio sempre legato alla crescita dell'osso nell'individuo dalla nascita all'età adulta è un ossicino molto carino, ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qua. Questa che vedete è una clavicola sempre di un individuo perinatale, cioè di un bambino appunto che poteva essere nato o non nato. Vedete com'è piccola? Ha forma di S, come giustamente è la clavicola. E guardate come la forma viene conservata poi anche nell'individuo adulto, però ovviamente si nota tantissimo il cambio di dimensioni. Questa è una clavicola adulta che sta qua, come dicevamo prima, e la dimensione rispetto a quella del bambino del feto è veramente impressionante. Ok? Vi faccio vedere sempre un altro paio di pezzi legati all'età. Ho in mano una tibia, una tibia destra in questo caso. Ve la faccio vedere per intero così, quanti provo a metterla in orizzontale. E vi faccio notare la parte finale, la parte inferiore di questa tibia, perché come potete vedere c'è una separazione, cioè ho due frammenti di questa tibia. La tibia non è rotta però, perché se io vi faccio vedere la parte finale, potete vedere che l'osso è chiuso, non è rotto e ne vedo la parte interna, la parte spugnosa. Queste parti finali dell'osso, tutte fatte a ondine, come abbiamo già visto, sono il punto dove le epifisi, cioè questi pezzettini finali, si andranno poi ad attaccare nell'individuo adulto sopra la diafisi, cioè sopra l'osso lungo. Quindi che cosa succede nella crescita delle ossa lunghe? Abbiamo l'osso centrale che è libero di crescere e ha dei cuscinetti di cartilagine sopra e sotto che lo lasciano libero di allungarsi. Quando ha raggiunto la dimensione finale, adulta, corretta per quell'individuo, allora si attaccheranno in modo permanente anche le epifisi, cioè queste parti finali che sono al momento staccate per permettere la crescita, ma che poi si fonderanno con l'osso. Ultima cosa che vi faccio vedere sull'età è questa bellissima mandibola, ok? Questa mandibola è un pezzo di mandibola, ok? Solo un pezzettino, è rotta in due punti, ma questa mandibola, come potete vedere, non ha neanche un buco per i denti. Tutti gli alveoli dentari sono chiusi perché questa persona, probabilmente anziana o comunque un po' più avanti con gli anni, aveva perso tutti i denti della mandibola, quindi anche questo ci aiuta a stimare con una maggiore incertezza l'età dell'individuo. Torniamo sulla nostra presentazione. Se avete domande, ovviamente potete farmele, poi se ho tempo di rispondere adesso rispondo adesso, se sono cose veloci, se no rispondo in un separata sede. Vediamo velocemente la parte di patologie e traumi, perché come dicevo le ossa ci possono raccontare delle malattie. Qua sotto per esempio vi ho messo dei bellissimi casi di ernia, ok? Vediamo come all'interno di queste vertebre, dei corpi di queste vertebre, ci sono delle specie di buchi di cavità, come delle caverne scavate all'interno del corpo dell'osso, è la cartilagine che separa le due vertebre che infiammata, messa sotto sforzo, inizia a premere, a schiacciare contro l'osso. E l'osso, che abbiamo detto, è vivo e risponde agli stimoli, se qualcuno schiaccia, eserce una pressione su di lui, lui dice allora io mi tiro indietro, io decostruisco, io cancello una parte di osso per fare spazio a te che stai insistendo. Ed è proprio quello che succede in questi casi, si chiamano noduli di schmorl tra la cartilagine intervertebrale e l'osso della vertebra proprio e possono arrivare anche a toccare la parte che qua vediamo in alto, dove ci sono i buchi delle vertebre, può arrivare a toccare il midollo spinale e quando tocca il midollo spinale abbiamo un'ernia vera e propria, dove ovviamente premendo contro i nervi del midollo fa anche parecchio male, può arrivare a causare diversi problemi alla schiena e alle gambe e all'arto inferiore. Qua a destra invece vediamo semplicemente nell'ultima vertebra il bordo tutto irregolare, slabbrato, rovinato di una vertebra che vuoi per la scogliosi, vuoi per l'attività lavorativa intensa, vuoi per l'età, ha rovinato il suo margine e anche questo quindi è un segno patologico. Qua in alto invece vediamo un dettaglio di un cranio, di una mandibola in realtà, dove c'è stato un taglio netto perché probabilmente un colpo di spada o comunque di arma da taglio è andato a tagliare in modo molto netto la mandibola e quindi i bordi di questa frattura mi raccontano che lì c'è stato l'intervento di un'arma da taglio. Ecco come le ossa possono quindi mantenere, serbare, delle testimonianze anche di violenza interpersonale e possono essere usate dagli antropologi forensi, cioè quelli che lavorano nei tribunali, che testimoniano nei tribunali come esperti, per dire che cosa è successo a un individuo che magari è stato trovato ucciso diversi anni dopo la sua uccisione, ma le ossa hanno conservato molte tracce di quello che è successo alla persona nel momento dell'uccisione, come possiamo vedere qua. Tra le domande che mi arrivano mi chiede come faccio ad avere delle ossa umane, è una domanda giustissima, lecita, queste ossa sono ossa che sono state date a un'associazione di ricerca e divulgazione proprio per fare divulgazione riguardo allo scheletro, alle ossa e alla osteoarcheologia, quindi sono ossa che l'associazione utilizza e usa anche per fare ricerca, ma appartengono di fatto allo Stato così come tutti gli altri reperti archeologici, quindi sono in prestito, in deposito all'associazione, ma solo per motivi di studio, di ricerca e di divulgazione come questi eventi comunicativi che stiamo facendo adesso. Vediamo un paio di esempi velocissimi sempre sui traumi, mi rimetto a dimensione grande, proviamo a fare così, proviamo a fare così, ok? Allora, patologie, vi faccio vedere questo caso, ok? Questa è difficile da riconoscere perché è molto spezzata e molto rovinata, ma questa è una tibia, cioè quest'osso che ho in mano è una parte di questo osso, ok? Sono tibie, ossa della gamba, ma come potete vedere una delle due tibie è cresciuta a dismisura. Questo potrebbe essere stato causato da fratture che ci sono state nell'osso e che poi sono state rimarginate male o molto più probabilmente in questo caso da un'infezione che ha lasciato il segno all'interno delle ossa. Quindi vedete tutta questa parte così allargata a forma di ellisse sulla parte anteriore della tibia e anche la struttura dell'osso, vedete qua la superficie come è porosa, striata, un po' rovinata, ok? Lì mi dice che l'osso stava lavorando per risistemarsi, quindi non aveva ancora finito il suo processo di guarigione, infatti non era tornato a una bella superficie liscia come quella che vediamo qua su questo osso giovanile, bella regolare, bella piatta, ma tutte quelle irregolarità, quei solchi, quella porosità ci dice che quell'osso era ancora molto reattivo, era ancora molto attivo nel rimodellarsi, cioè nel cambiare forma in seguito a un trauma o in questo caso una patologia che aveva subito. Una cosa molto interessante, ve la faccio vedere qui su questa mandibola, mi servirà una lucina verticale che adesso vi metto, perché sul dente di questa mandibola, ok? Vedete che sul dente l'incisivo, questo qua più brillante che vedete qua davanti, compaiono delle righette, dei solchi, ok? Questi solchi che vedete sulla parte anteriore dell'osso, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, ok? Questi solchi, queste righe ci raccontano di uno stress che l'individuo ha subito nell'età in cui quell'osso stava crescendo, magari era stato denutrito, magari aveva una grave malattia che ha, diciamo così, distratto il suo dente durante la deposizione dello smalto e quindi vediamo questi solchi che non solo ci raccontano malattie, ma ci raccontano anche periodi di stress metabolico. Uno dei campioni più interessanti che ho in casa è sicuramente questo, è un cranio, come potete vedere, che i miei studenti hanno ricostruito durante uno dei nostri corsi e sulla parte laterale di questo cranio vediamo questo buco, adesso riesco a farvelo vedere bene, questo buco che come vedete è all'interno di una parte ribassata, molto piatta, quindi qua è piatto e con un buco al centro. Questa molto probabilmente, con buona probabilità, è una trapanazione cranica che veniva usata come intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi legati a traumi del cranio, aumento della pressione del cervello eccetera, quindi facevano letteralmente i chirurghi un buco all'interno della testa delle persone per guarirle, pazzesco questa cosa, quindi vedete come le ostaci possono raccontare delle cose davvero interessanti che poi messe in un contesto, tipo il contesto storico archeologico, ci possono anche raccontare, non so, in quella società, in quel periodo quali erano le conoscenze medico-chirurgiche, vedete, tipo se si usavano le trapanazioni craniche e come funzionavano. Tra le patologie che possiamo vedere nelle ossa ci sono anche i tumori, alcuni tipi di cancro possono essere visibili nelle ossa e si manifestano in due modi principalmente, quindi di tutti i tantissimi tipi di cancro che abbiamo, due sono i modi in cui si manifestano, creando buchi, lesioni litiche, quindi come vediamo qua a sinistra un osso che si sgretola, si consuma perché le sue cellule, le cellule del cancro lo stanno distruggendo o dall'altro lato invece vediamo lesioni proliferative, cioè l'osso che prolifera, che cresce, che aumenta e aumenta in modo molto strano e disorganizzato, ad esempio facendo tutte queste spiccole, tutti questi aghettini in cui l'osso sta crescendo ma non sta crescendo con la forma che dovrebbe, semplicemente deposita nuovo osso, deposita nuovi minerali e prende questa forma qua tipica delle lesioni cancerose, delle lesioni tumorali proliferative. Come possiamo mantenere il nostro scheletro visto che è così interessante, così prezioso per noi in buona salute? Ci sono alcune vitamine che sono direttamente coinvolte nella costruzione e nella salute delle ossa. Proviamo a vedere con questo sondaggio se avete un'idea di quali sono le vitamine coinvolte nella salute delle ossa. Votate! Qua c'è una risposta sola. La domanda è quali sono direttori di sostanzialmente coinvolte, quelle più coinvolte, quelle più essenziali per la salute delle ossa. Poi ovviamente tutte le vitamine servono e se ce ne manca anche solo una si creano dei pasticci. Però due di queste sono più legate alla salute delle ossa. Adesso le andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, andiamo avanti, chiudiamo direi il sondaggio, tanto siete già molto schierati. Molti di voi hanno quasi tutti, diciamo, tutte le risposte sono state sulle risposte che contenevano la vitamina D. Giustamente la vitamina D è proprio la vitamina più famosa per la salute delle ossa, ma non c'è solo lei, c'è anche la vitamina C. Quindi era giusto che ha risposto, quel 33% che ha risposto anche la vitamina C. Andiamo a vedere a che cosa servono queste due vitamine per le ossa. Una è la vitamina C, dicevamo, l'acido ascorbico, che è fondamentale per la produzione di collagene. Perché? Perché il collagene, abbiamo detto, è la proteina più abbondante all'interno della matrice delle ossa e senza la vitamina C il collagene non lo possiamo fabbricare bene. Quindi avremo delle ossa che non sono fatte bene e avremo anche diversi problemi legati alla mancanza di vitamina C in una malattia che si chiama scorbuto. Ok? Ho fatto un webinar per AIRC tutto sulla vitamina C in passato, lo trovate ancora visibile su YouTube, quindi per chi è interessato c'è un webinar tutto dedicato alla vitamina C. La vitamina D invece è quella che avete votato tutti perché è famosa per il suo ruolo nell'omeostasi del calcio. Ok? Gli ioni calcio 2 più, gli ioni calcio, sono immagazzinati nelle ossa e assorbiti dall'intestino proprio grazie all'azione della vitamina D, che non agisce da sola però agisce anche insieme ad altri ormoni prodotti dalla tiroide e dalle paratiroidi che sono delle ghiandole che si trovano nel nostro collo, proprio davanti al tubo respiratorio. Le vitamine D sono imparentate con il colesterolo, quindi sapendo che sono parenti del colesterolo, di quale classe di biomolecole possiamo dire che appartengono? Andiamo con il nostro sondaggio che è il penultimo. Qua vedo che c'è già gente che è andata direttissima, in tempo zero ha già votato. Sono le vitamine del gruppo D, sono zuccheri, sono proteine, sono grassi o sono acidi nucleici? Quale gruppo di biomolecole? Vediamo se le avete già viste. Quali categorie anche di molecole biologiche? Vi vedo già molto belli convinti, direi che il risultato è abbastanza schiacciante e quindi procediamo magari con i risultati del sondaggio che dicono lipidi. Siete stati bravissimi, le vitamine del gruppo D appartengono al gruppo dei lipidi. Sono un insieme di cinque pro-ormoni, cioè non sono ancora degli ormoni a se stesse, ma lo diventeranno dopo delle trasformazioni che subiscono all'interno del corpo, sono cinque vitamine con forme molto simili ma leggermente diverse tra loro. Le due forme più importanti, ve le ho riportate qua, sono la vitamina D2, che è l'ergocalciferolo e la vitamina D3 che è il colecalciferolo. La D2 è di origine soprattutto vegetale, il colecalciferolo invece derivando dal colesterolo è di origine puramente animale perché il colesterolo c'è solo negli animali. Entrambe le forme non sono ancora attive come le vediamo ma devono essere attivate e la forma attiva ad esempio della vitamina D3 è quella che vediamo qua a destra, si chiama calcitriolo e praticamente è uguale alla vitamina D3, semplicemente la modifica è l'aggiunta di due gruppi OH, due gruppi ossidrile, quindi basta modificare un pochettino le vitamine per ottenere la forma funzionante. Queste vitamine noi le produciamo autonomamente appunto a partire da colesterolo e la fonte principale di vitamine per il nostro organismo è l'esposizione al sole. I raggi ultravioletti che si trovano nel sole stimolano gli strati della pelle a produrre vitamina D ma attenzione questo non ci autorizza ad esporci al sole senza una adeguata protezione solare perché scottature come quella di sinistra che vi saranno sicuramente familiari a chi non è mai capitato di scottarsi sono in realtà un fattore di rischio molto grande per lo sviluppo di tumori della pelle come quelli che vediamo a destra, sono due melanomi, sono molto difficili da riconoscere a un occhio inesperto dai nei che potremmo avere normalmente sulla pelle ma sono potenzialmente mortali, quindi attenzione sempre esporsi al sole con la protezione solare, anche con la protezione solare avviene la produzione di vitamina D, non sarà la crema solare a farci andare in carenza di vitamina D. Chi invece ovviamente magari ha meno esposizione al sole o comunque vuole una dieta che fornisca adeguatamente la vitamina D ci sono diversi pesci grassi come il salmone oppure l'olio di pesce già estratto e purificato che viene venduto come integratore o se il tuorlo d'uovo che già contengono spontaneamente vitamina D, ma anche latte o cereali che vengono venduti con l'aggiunta di vitamina D, quindi non che la contengono naturalmente ma gli viene aggiunta per dargliene un tenore, un livello più alto. La vitamina D non è attiva solo sulle ossa e sul metabolismo del calcio ma ha recettori su tantissime cellule e quindi anche le cellule dei reni, le cellule del sistema immunitario, tutte queste cellule che non appartengono al sistema scheletrico, hanno dei recettori per captare la vitamina D e per fargli fare le sue azioni, quindi la vitamina D può fare in realtà tantissime cose. Alcune di queste le sappiamo già, alcune le stiamo ancora studiando, per esempio gli scienziati in diverse parti del mondo stanno studiando il ruolo della vitamina D ad esempio sui disturbi cardiovascolari, quelli legati al cuore e ai vasi sanguigni, oppure sul diabete, oppure sulle malattie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico, oppure anche il legame tra la vitamina D e il cancro, la vitamina D e malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer, la vitamina D nel legame con alcune malattie virali come l'influenza, oppure il ruolo della vitamina D sui batteri che vivono all'interno del nostro intestino e che aiutano il nostro corpo a stare bene. Quindi veramente la vitamina D potrebbe fare tantissime cose, ma attenzione al momento non abbiamo ancora la certezza, la sicurezza di quale sia il ruolo e quanto sia l'effetto della vitamina D su tutti questi, su tutte queste malattie o fattori. Al momento quindi non ci sono prove scientifiche che supportino l'uso regolare di integratori per chi non ha delle deficienze, delle mancanze di vitamina D. In particolare per quanto riguarda il cancro, alcuni studi su cellule o su animali condotti in laboratorio dimostrano che la vitamina D può avere un ruolo positivo sul cancro. Il problema è che quando vado a provare questi studi sulla vitamina D all'interno di umani, cioè su un grande numero di persone e quindi monitoro nel tempo l'effetto che la vitamina D può avere sulle persone malate di cancro, i risultati non sono così facili da interpretare. Ad esempio nel novembre 2030 un'importante rivista scientifica riportava dei risultati di un primo studio che sembra indicare che gli integratori potrebbero ridurre l'incidenza di tumori in stadio avanzato, cioè persone che già hanno il tumore evitano una progressione troppo rapida di questo tumore e questo è stato osservato specialmente negli individui non in sovrappeso, non obesi. Quindi vedete come in realtà il risultato, l'effetto che la vitamina D può dare sui tumori è molto limitato, quello che è stato osservato e al momento ad esempio non sappiamo nulla di preciso sugli effetti nelle persone sane. Per la maggior parte dei tumori, per la maggior parte delle malattie, siamo ancora lontani dal poter parlare di un effetto preventivo o terapeutico della vitamina D. Ecco perché l'Agenzia Italiana del Farmaco proprio molto recentemente ha limitato la distribuzione di vitamina D offerta dal sistema sanitario nazionale, cioè prima era molto più facile avere degli integratori di vitamina D prescritti pagati dal nostro Stato, adesso i supplementi di vitamina D non sono più pagati dallo Stato tranne che per certe categorie di persone che risaputamente ne hanno bisogno, tipo donne in gravidanza o persone con osteoporosi. In questo modo quindi ci ricordiamo che la necessità di integrare la nostra vitamina D spesso non ce l'abbiamo, cioè le persone che veramente ne mancano sono categorie molto ristrette, non è necessario che tutti ci prendiamo un grosso numero di integratori di vitamina D, perché non sappiamo ancora bene quali sono gli effetti che faranno. Allora, con questa carrellata sulla vitamina D che abbiamo collegato alla salute delle ossa, io finisco il mio webinar e vi chiedo di rispondere a quest'ultima domanda. Ti aspettavi che le ossa e lo scheletro potessero essere così interessanti? Fatemi sapere cosa ne pensate. ultimo sondaggio in chat ultimo sondaggio in chat molto bene, siamo quasi a metà dei votanti, raggiungiamo un quorum almeno del 70%, dai per avere delle risposte statisticamente significative. Perfetto, molto bene, direi che possiamo chiudere qua il sondaggio. Allora, molti di voi dicono che già conoscevano la complessità dello scheletro e mi mi fa piacere perché è un apparato molto affascinante. Pensate che io lo consideravo molto noioso un tempo, fino a quando non ho scoperto tutto quello che ci può raccontare della vita e della morte di un individuo. E vedo invece che per una bella fetta di voi è stata un po' una sorpresa scoprire tutto quello che lo scheletro ci può raccontare e quindi mi fa piacere di essere stato qua a introdurvi appunto alle meraviglie del nostro scheletro. Ora, per chiudere il webinar vi ricordo di stare collegati fino alla fine dove vi arriverà un questionario di gradimento e ci fa piacere sapere la vostra opinione. Se avete delle domande potete metterle in chat o potete inviarle all'indirizzo email che ora vi faccio vedere. Colgo solo l'occasione per ricordarvi l'iniziativa Cancro io ti boccio che si terrà venerdì 26 e sabato 27 gennaio, quindi tra pochissimo, in tantissime scuole d'Italia, migliaia di scuole che hanno aderito a distribuire arance, miele e marmellate della salute che vanno a sostenere, vanno a supportare la ricerca oncologica, la ricerca contro il cancro di cui abbiamo ancora purtroppo tanto tanto bisogno. Per partecipare ed essere anche voi una scuola che distribuisce arance, marmellate e miele per sostenere la ricerca oncologica avete tempo fino al 5 dicembre per contattare AIRC proprio aderendo agli indirizzi riportati qua sotto e rendervi disponibili come distributori. Se avete domande io sono qua in chat ancora per un po' e vi lascio semplicemente come ricordo questi link utili. Se scrivete a info-scuola.irc.it potete fare domande aggiuntive, potete chiedere anche questioni tecniche. A breve la live sarà convertita e messa su YouTube sul canale AIRC Education. Ricordatevi di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre al passo con le iniziative di AIRC e di visitare il sito scuola.irc.it dove trovate un sacco di materiali utili anche per la didattica e per imparare. Se non avete domande io vi saluto ed è stato un piacere essere qua con voi oggi. Buona giornata!